Eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty in tantissimi state chiedendo informazioni in merito al Black Ops Pass e ai contenuti della Digital Deluxe Edition di Call of Duty Black Ops 4 Bene ragazzi vi posso dire innanzitutto che oggi è il giorno di lancio del Black Ops Pass quindi il Season Pass di Call of Duty Black Ops 4 che si potrà acquistare adesso stand alone se lo dovete comprare appunto dopo non avendolo comprato appunto nella versione predefinita di Black Ops 4 Quindi se avete la versione standard e quando usciranno i DLC volete questo contenuto lo potrete comprare adesso praticamente in maniera singola Come sapete all'interno di questo Season Pass ci sono 4 mappe zombies che usciranno ovviamente a cadenza trimestrale 12 mappe multiplayer quindi stesso discorso e 4 personaggi Black Ops esclusivi e in molti mi dite ma perché c'è soltanto l'uomo ombra? Bene la Treyarch ha svelato questa immagine dove potremo vedere che praticamente i contenuti del Day One del Black Ops Pass sono lo Shadow Man che è un personaggio da utilizzare all'interno di Black Ops e la mappa zombies bonus classified Ovviamente usciranno tanti contenuti aggiuntivi che ci ricordano le 4 mappe zombies e le 12 mappe multiplayer e 3 Black Ops personaggi esclusivi Quindi praticamente cosa significa che questo Black Ops Pass da quello che abbiamo capito oggi non rilascerà tutti insieme i contenuti ma a cadenza giornaliera settimanale tante novità per coloro che lo ovviamente compreranno Quindi allo stato attuale abbiamo soltanto questi due contenuti Man mano usciranno tutti gli altri come i nuovi personaggi 3 personaggi che ancora ci mancano in Black Ops Ecco perché mancano delle cose Per quanto riguarda i contenuti ad esempio la mimetica particolare che abbiamo visto che abbiamo con la Digital Deluxe e l'MX9 con quella bellissima grafica con l'Aquila ancora non è disponibile quindi sicuramente nei prossimi giorni arriverà Vi ve lo farò sapere in tempo reale non appena sarà disponibile perché avete visto ancora non ci sono neanche le missioni e le sfide per fare le varianti delle armi Vi terrò ovviamente aggiornati appunto su questa cosa Volevo fare questo video per chiarire un attimo la cosa Non è un problema del gioco, non è un problema nostro I contenuti del Black Ops Pass e della Digital Deluxe verranno rilasciati a cadenza giornaliera o settimanale quindi li avremo tutti quanti Quindi state tranquilli e vi riporterò in tempo reale ovviamente tutte le novità a riguardo Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate Vi aspetto più tardi live su Black Ops 4 tutta la sera e la notte e ci vediamo ad un prossimo video